In puntate precedenti di questa rubrica abbiamo già ampiamente parlato delle diverse ipotesi che stanno circolando a proposito della ripresa della scuola a settembre e abbiamo anche parlato delle difficoltà legate agli organici e agli spazi fisici per far funzionare tutto con una certa regolarità. La Ministra continua a garantire che a settembre si riprenderà in presenza e senza troppi problemi. Vorremmo crederci ma purtroppo almeno per ora i fatti vanno in direzione diversa. La Ministra, e non solo lei per la verità, afferma che al primo settembre con l'inizio dell'anno scolastico prenderanno avvio le attività di recupero rivolte agli studenti che ne avranno bisogno. Non è ancora chiaro però quali docenti si potranno occupare di questa attività dal momento che come accade da sempre a settembre tanti tantissimi insegnanti non saranno ancora al loro posto. Al prossimo settembre il problema sarà ancora più pesante dato che le stesse immissioni in ruolo per espressa previsione del decreto scuola potranno slittare fino al 20 settembre così come slitteranno a quella data i termini per la conclusione delle operazioni per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. C'è poi la complicatissima vicenda della data di inizio delle elezioni. La Ministra vorrebbe fissarla per il giorno 14 per tutta Italia ma molte regioni stanno già puntando i piedi e fanno rilevare che il calendario scolastico è una loro competenza esclusiva. Il problema è complesso perché il giorno 20 settembre i cittadini saranno chiamati al voto o per il rinnovo delle amministrazioni regionali e comunali o per il referendum costituzionale. Il rischio ma forse è una certezza è che dando il via il 14 settembre si debba poi sospendere le elezioni dopo pochi giorni per riprendere dopo il voto tanto che alcune regioni stanno già parlando di aprire il 23 settembre. Ma il problema dei problemi è un altro. A settembre il numero delle cattedre vacanti potrebbe toccare quota 200.000, un vero e proprio record storico. Record che rischia di dare ragione a chi non da oggi chiede che si proceda al più presto a definire una procedura urgente per assumere un congruo numero di precari facendo riferimento esclusivamente ai titoli di servizio già maturati ed escludendo modalità concorsuali di tipo selettivo. E così prendono forza anche gli emendamenti in tal senso già presentati al decreto rilancio, come quello dell'ex ministro Fioramonti che propone un piano di assunzioni per soli titoli di servizio e senza prove d'esame, proposta sulla quale però almeno finora il Movimento 5 Stelle si è sempre dichiarato indisponibile a discutere. Le difficoltà insomma sono davvero tante e purtroppo siamo già quasi alla fine di giugno. Il primo settembre è sempre più vicino, qualche decisione deve essere presa e non fra qualche giorno ma subito, anzi oggi stesso. Il tema come potete immaginare è caldo, caldissimo, tutti ne parlano e tutti chiedono di sapere che cosa succederà prossimamente. Quindi noi continueremo ad occuparcene sia su questo canale sia nel nostro portale www.tecnica-dellascuola.it. Continuate a seguirci, continuate a scriverci, a mandarci le vostre osservazioni, i vostri suggerimenti, noi ne daremo conto come sempre. Grazie a tutti.